Non si arresta l'avanzata Ucraina in territorio russo. Il presidente Zelensky celebra il successo dell'operazione. Dobbiamo fare pieno uso dei risultati ottenuti. L'oppositore russo Ilia Yashin racconta la sua esperienza nel carcere russo. Ne parla Euronews da Berlino dopo la liberazione. Concessioni balneari nel Lazio. Tra le aziende a conduzione familiare c'è chi si prepara a competere alle gare statali. Nella regione l'indotto è pari a un miliardo e mezzo di euro. Una base militare tedesca vicino all'aeroporto di Colonia riaprirà dopo essere stata chiusa perché si sospettava che l'acqua fosse contaminata. La base di Colonia One, dove ci sono circa 5.500 persone, è stata messa in allarme dopo aver trovato un buco in una recinzione. I presenti alla base sono rimasti sul posto ma sono stati avvisati di non bere l'acqua del rubinetto. Le forze dell'ordine e l'intelligence militare stanno indagando sul possibile sabotaggio e sono stati prelevati dei campioni da analizzare. Un altro sospetto sabotaggio ha portato una base NATO nella città tedesca di Gailenkirchen a inalzare i livelli di sicurezza. Tuttavia un portavoce ha dichiarato che l'acqua è stata controllata e ha confermato che non era contaminata. In precedenza la NATO aveva lanciato un'allarme sulle attività ostili della Russia in Europa, che potrebbe includere attacchi informatici e sabotaggi. Tuttavia non è chiaro chi possa aver avuto accesso in modo illegale alla base aerea. Entra nella sua seconda settimana l'incursione ucraina nella regione russa di confine di Kursk. Sembra che le forze di Kiev siano continuate ad avanzare nella regione, nonostante le truppe russe abbiano iniziato a rispingere gli attacchi nemici. Martedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato il successo dell'operazione in territorio russo. L'avanzata ucraina ha costretto le autorità russe a nuove precauzioni. Il leader del distretto di Bolshe Soldatsky, che confina con il distretto di Suzza, ha annunciato che la popolazione locale è stata evacuata a causa dell'instabilità della situazione nell'aria. Nel distretto vivono circa 10.000 persone. Il governatore della regione di confine di Bielgora, da diecente a quella di Kursk, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mercoledì mattina Mosca ha annunciato di aver abbattuto 117 droni ucraini, che durante la notte avrebbero sorvolato anche le regioni più profonde del territorio russo, come Voronezh. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, Mosca sta ritirando una parte delle sue truppe dal fronte in Ucraina per rispondere con più forza all'offensiva interna. L'attivista dell'opposizione russa, Ilya Yashin, è stato rilasciato il primo agosto dopo due anni e mezzo di detenzione in un carcere russo, grazie allo storico scambio di prigionieri con l'Occidente. A Berlino ha raccontato a Euronews la sua prigionia. Molto di sì, non provalire in un'emozionale, molto voglio essere s'assi guardare in un'emozionale, in un'emozione del genere, perché in questo caso, tu solo rupe sono proprio un'aventurato. Cosa causa, due anni è un'è 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 un'è, che appare che ne sono molesto da rispondere, e poi ci sono i ragazzi sono state condivano i problemi con le persone, i stessi sposte 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 in un'è un'è. Inoltre, tu continui a fare YouTube, come ti è successo? Non c'è controlla, per l'interprezione? Tu hai possibilità di перепisare con persone, e magari censura proposte alcune cose. Ci sono momenti, quando i miei texti sono bloccati, o che ci si 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 si. Ma, quando si dice una gr именноマ tici, li ho avuto una gr so, on ottable 30 c worker censura non s'impe pubblicare sui sociali sessi, ho chiesto in un video content di YouTube. Quale oggi oggi è stata una поддержita di Putin? Penso che la forte ideologica di persone, che sono stati per Putin, non è una grande grande. Più i nostri сторонi Putin, sono stati, quanto i nostri противnici Putin. In основном, il nostro obiettivo è persone che si occupano un pozzettante. La situazione economica, la situazione sociale in il nostro obiettivo aumenta. E le persone, come mi sembra, più e più spavano questo con la politica Putin. Molto показateli è stato il miettie di Приgorsino, quando, nonostante l'istirizzazione di Putin, nonostante l'obiettivo, l'obiettivo è abbastanza indifferente. Non c'erano alcuni miettie di supporto di Putin. I giorni fanno seguire le precipitazioni al giorno più caldo dell'anno, con temperature che avevano raggiunto i 36,5 gradi nella Renania Palatinato. Al caldo torrido sono dunque seguiti temporali, grandinate e inondazioni in tutta la Germania, con le regioni della Renania settentrionale Vesfalia, Bassa Sassonia, Baviera e Baden-Württemberg più colpite. I servizi di emergenza sono stati inviati per far fronte a cantine e strade allagate e in Baviera i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un treno si è scontrato con un albero caduto. In Belgio è stata emessa un'allerta meteo per i temporali nelle province di Limburgo e Liegi, mentre il resto del paese registra criticità meno pesanti. L'Istituto Meteorologico Reale del Belgio afferma che il record di precipitazioni di agosto è già stato superato, con i 100 mm di pioggia registrati a Bruxelles questo mese rispetto alla media di 86,5 mm. Sono 11 in tutto i gestori di stabilimenti balneari in un tratto di costa lungo 2 km nella zona di Fiumicino, nel Lazio, che nella giornata di martedì hanno dato vita ad una rete di imprese il cui scopo è quello di prepararsi alle gare, aprendo così un dialogo con le istituzioni. Insieme a loro anche associazioni di categoria presenti ai tavoli interministeriali per la messa a punto di una legge quadro, da tempo sollecitata dalle istituzioni europee per far recepire la direttiva Bolkestein. Tema diventato ancora più stringente con la proroga delle concessioni scadenza a fine 2024. Lo scopo è quello di partecipare a queste gare che sembrano ormai irrinunciabili e ineluttabili con gli strumenti migliori che possiamo avere a livello di aggregazione, condivisione di una serie di progetti che faranno sì che il comune si possa mettere in evidenza e cioè di punteggi che avremo. È un modello unico in Europa, non ha uguali. Ci sono famiglie che vivono da decenni di questo lavoro, hanno investito. Ad oggi sono circa 6.500 le imprese balneari del Lazio che lavorano nel settore. Ci prepariamo a tutte le competizioni possibili e immaginabili. In primis auspichiamo che il governo faccia la propria parte in Commissione europea in un negoziato difficile e veramente sfiancante. Il governo Meloni ha messo in piedi un documento formale per poter negoziare una riforma con la Commissione europea, cosa che negli ultimi 14 anni è mancata. Quindi noi su quello abbiamo estrema fiducia. I operatori di beach club sono diventati su come navigare il problema. Inoltre le discussioni tra l'Italia e la Commissione europea sono ancora iniziali. Abbiamo chiesto di un esperto di ridurre un scenario così complesso e le sue conseguenze potenti. le sue conseguenze. Un problema del governo di oggi, del governo Meloni è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possono essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. Il giro di affari nel Lazio è pari ad un miliardo e mezzo di euro di cui poco più di 100 milioni pagati allo Stato per la gestione delle concessioni. Questo birrificio berlinese si distingue per un approccio innovativo alla sostenibilità. Oltre a utilizzare pannelli solari sul tetto per ricavare gran parte dell'energia necessaria alla produzione della birra, utilizza i cereali esausti per nutrire il bestiame delle aziende locali. La loro birra è completamente naturale, non contiene conservanti ed è venduta in lattine. Il livello di cera è di un po' di farmi, in Bamberg, in questa area, in Germania, in centro-Central Germania. Il grano è usato per il processo di rinnovare e poi, dopo averlo esprimato, lo salviamo. È usato da un farmi locale che è solo un po' di chilometri da qui, e lo usa perché ancora ha molta proteina in lui come feed per i cattivi, che poi sono usati localmente per i cattivi. Il livello di cereali esausti che possono recuperare i contadini dipende dalla quantità di birra prodotta quella settimana. Ogni lattina venduta ha meno di sei mesi. Il birrificio rilascia almeno una nuova birra a settimana. La collaborazione tra i cattivi e i cattivi è andata per tre anni da l'inizio prima di aprire la cattiva. È una tradizione che si tratta di tornare al padre di cattivi, che aveva orizzato le cattivi nella cattiva, i cattivi di cattivi. Cattivi di cattivi. Cattivi di cattivi. Cattivi di cattivi. Liv Stroud, in Berlin, per Euro News.